Per me è una bella piazza, molto seria, molto con bella gente, grande, gente del paese, gente via e che la gente viene via. Per loro scorso, è regola, ci è parlato solo di regole oggi. Ogni uomo si pica responsabilità di solo, e quando sbagliano, si deve farlo, ognuno che vuole. E ne rispondete nella tavola per come. Se decidiamo noi stessi rimettere fuori a Roma, pure che d'inzannevo, anzi, lo mettete fuori all'istante. Ma può essere il tuo frate, il tuo cugnato, il tuo cucino. Sono regole ferre. Ecco, io ho visto persone serie, ho visto belle persone. Pure il Revo ci sono persone serie. Barra picco, senza un barra poco. Che siete scema, però? Io te lo ho visto, il paneo è beccato subito, perché? Non potevamo parlare, qualcuno lo parlava solo, davvero parlava le ricche. Non si può fare, certo. Ma poi lo sai qua. E poi per me lo so se vedi tutti insieme. Noi lo so se ne passavamo tutti. No, dico, venite tutti insieme, non c'è. No, uno è uno. Esattamente porcino, malv batteria è sempre, quello che si chiuderebbe. Poi se c'è透 high caldo in paume, e se sbaglio che lo sbaglierei due periodi nella mia reparenza, Però per tutto ciò c'è profondità. E' andata la felicità, e' andata ma intanto... Voi chiedendo quindi, o come se stuse need my right, o come sed my left hand, o come sedません to alcane oh, o come sedere san josa siamo venata, o come sedere buro, o uno. Se uno non vuole accettare se si assume le conseguenze e portarlo qui. Siamo tutti alla stessa maniera fino a quando? Tanto il capo è palermo. Non ci sono ancora i consiglieri? Tutti, c'è tutto, c'è tutto. Questo personaggio importante che continua ad avere, finalmente, tutti i vecchi morti erano stati. Provenzano morì. Era una persona che dopo rire era bologhista. Ed è pure il capo di questo nostro fratello che abbiamo. E sicuramente non sarà inquietato. Se lui si comporta bene, non sarà inquietato. Sì, ci mancherebbe, se ne faccia facciare le figlie. Se ne faccia facciare le figlie. Se ne faccia facciare i figli non c'è il riguardo. E poi vorremmo avere pure qualche altro bisogno. Allora, l'altro, la mia casa, la mia casa. Non c'è un'altra cosa? No, non c'è un'altra cosa. Non c'è un'altra cosa? Non c'è un'altra cosa? No, non c'è un'altra cosa? Non c'è un'altra cosa? Sì, non c'è nessuno. potesse dare aiutare ciò che vede e ti dice che vuole fare un po' un po' con l'exia se si metti fuori, se la rimattei se si metti dopo tanti anni che ti sacrifichi per fare studiare a tua figlia, tua figlia diventa avvocata avevi buscati i piccoli facendo un avvocato la figlia vuole fare un po' con l'avvocato perché ci sono un po' l'avvocato e fa nascere chi se ne ha lei questo struttura sa be isse ma non sa be, un leve isse vuole mi sanno un no vabbè ma l'impegno non è vero si è caido a tipo a menzino se vuole levar un po' si ma ci si come vuoi tu, qual è il problema? chià è molto un po' ne ho vado, non ne ho saputo un po' ne ho vado non era il problema non è vero non è vero non è vero cosa stervi